A proposito, ieri mattina su Ray3, sul televideo che fanno delle notizie laterali, c'era la notizia di un vescovo cattolico da Ruanda a cui è stata chiesta la pena di morte. Io quella notizia non l'ho più ritrovata sui giornali. Se qualcuno per caso dovesse trovare la notizia della richiesta di pena di morte per quel vescovo da Ruanda, su qualche giornale, me lo faccio sapere, perché ho l'impressione che alcuni giornali non pubblicano certe notizie perché io non faccio la segna stampa. So che non è paranoia. Però in effetti ho la sensazione di alcune cosette, però non è molto importante. Nel caso, se qualcuno su qualche giornale, su Corriere della Sera o su giornali diversi, locali, ha la notizia della richiesta di condanna a morte del vescovo cattolico da Ruanda, se me la fa avere, mi fa un piaffavore. Sì, ecco, io voglio anche ricordare, visto che Claudio non ha dato il motivo, che nel Ruanda ci sono 32 sacerdoti della Chiesa Cattolica ricercati per genocidio. In pochi mesi, 800.000 morti. Stando da quello che si sa, questi sacerdoti sono in Italia a fare i bravi parroci. Uno di questi 32 sacerdoti, di cui il governo ruandese ha chiesto le tradizioni a Firenze, Ecco, di conseguenza c'è una piccola polemica, però noi ci ripromettiamo, fra le tante cose, anche di pubblicare l'unico articolo che ho visto sul caso Ruanda, di cui si parla in specifico della complicità nel genocidio di 800.000 persone dei cattolici, e soprattutto ricordo che appunto dicono che i missionari sono pochi in giro per il mondo. Voglio ricordare che Ruanda non è un paese gigantesco, perché deve essere grande, in grosso modo come il Veneto. No, non è grandissimo. Sì, sì, è grande. Sì, sì, è uno di più piccoli dell'Africa. Deve avere la dimensione del Veneto, e non ha la popolazione del Veneto. E pensate che in pochi mesi, poi dicono che c'è bisogno di missionari, pensate che in un paesetto così piccolo c'erano 32 sacerdoti che sono stati indagati per genocidio, e in pochi mesi sono morte 800.000 persone. Si parla di questo secolo, non si parla delle inquisizioni. Quindi qualche anno fa. Cioè, si parla appunto degli anni 90, insomma. Esatto. E pensate questo, erano presenti 32 sacerdoti. Sì, ma neanche suore implicate. Tanto che ho visto lo fa più scambio da un cuore. Io, stando ai dati ufficiali della magistratura del Ruanda, la magistratura del Ruanda, ha retenuto elementi sufficienti per chiedere all'arresto di 32 sacerdoti. Che poi qualcuno abbia fatto a Franca. Come sempre, hanno sempre fatto a Franca tutti quanti i criminali che si richiamano al Dio unico. perché basta pensare ai massacri dell'Algeria, basta pensare alle discriminazioni che vengono fatte nei confronti di tutte quante le popolazioni. Questo qua è abbastanza grave. Ecco, io parto da una cosa. Purtroppo stiamo assistendo al carnevale della campagna pubblicitaria fatta dalla scuola della Chiesa Cattolica dell'8 per mille. Allora, io voglio partire dai dati ufficiali che dà la Chiesa Cattolica 6 della ripartizione dell'8 per mille. Allora, nel 1997 hanno avuto, hanno speso, 633 miliardi per esigenze di culto della popolazione, 467 miliardi per sossettamento del clero, 283 per interventi caricativi in Italia nel terzo mondo, primissimo. Aumentano i miliardi nel 1999, lascio parlare del 1998, loro spendono 712 miliardi per il culto della popolazione, per le pecore da tenere dentro le grezze, e ne spendono 266 per il terzo mondo, e ne spendono 485 miliardi per sottamento del clero. logicamente anche i 266 miliardi di spese per il terzo mondo non sono stati dati in opere di bene, sono dati in opere che continuano a poterlo. Per mantenere una struttura di controllo. Sì, e per aumentare la povertà, la disgrazia di tutte queste popolazioni. Serve da sperare che la Chiesa Cattolica sai d'altronde, quei finti interventi caritativi servono per pochi dell'otto per mille. No, servono peggio, servono per mantenere le popolazioni in miseria, servono per... cioè, i Giuseppini qui del Murialdo sono responsabili dei massacri in Sierra Leone, perché loro hanno spezzato quello che è la relazione fra gli esseri umani e il mondo circostante, trasformando e coltivando la cultura della miseria, della disperazione, della sottomissione al Dio Padrone. Chiaramente qualcuno si fa spacciare per Dio Padrone e va a saccheggiare il sistema sociale. Tanto cosa vuoi che sia. Cioè, hanno delle responsabilità morali immediate, non è che hanno così delle responsabilità morali. Se voi finanziate la distruzione dei stati africani, se io fosse un imprenditore mi incazzerei, perché mi stanno fregando tutti quanti i clienti. Esatto. Cioè, veramente, eh? Se io fosse Benetton mi incazzerei, perché bene o male, se la Sierra Leone stesse, non dico bene, ma in maniera decente, mi potrebbe comprare le magliette. E invece sono loro di una miseria tale che sono costretto a mandargli per fargli sopravvivere. Perdo i clienti. Cazzo. Sì, ma a parte questo, cioè è sempre significativo il comportamento. Allora, noi diciamo sempre che esiste il costo delle... e noi diciamo che l'otto per mili, dato alla Chiesa Cattolica, si vuole dare potenza all'integralismo. Ma l'integralismo, ricordate, non è solo l'integralismo musulmano. C'è stato un recente convegno in cui dice fare l'Occidente ha un approccio sbagliato. Gli estremismi riguardano anche il mondo cattolico ed ebraico. E in cui dice appunto che il fondamentalismo è diventato il luogo comune di tutte le religioni monoteiste. E questo è stato un convegno. De conseguenza, pensate, che quello che fanno i musulmani o che hanno fatto in Algeria, lo potrebbero rifare, che hanno già fatto nel Medioevo, tutti quanti i cristiani. In Uganda l'hanno già fatto, ci sono queste mille morti. I dieci comandamenti, l'applicazione dei dieci comandamenti di Dio ha fatto mille morti circa. Un convegno appunto fatto ai primi di maggio a Roma dice chiaramente che l'integralismo monoteista non riguarda solo l'Islam, ma riguarda anche la Chiesa Cattolica e l'ebraismo. Un altro esempio dell'integralismo che è di tutte le regioni monoteiste, è uscito ad esempio un film, è uscito appunto in aprile, ed è la storia di alcune donne in Israele. Il film è stato appunto contestato appunto dall'integralista ultra-ortodossi ebraici. E di faccio il titolo è Gitae, storia di donna oppresso, sfida agli integralisti israeliani. Il film si chiama Kadosh ed è appunto la storia in cui tutte, e cito fra virgolette, contraddizioni delle religioni monoteiste che vogliono governare il mondo secondo principi maschilisti, lo dicono. Praticamente, il stesso registro che viene fuori da una cultura ebraica, dice che la contraddizione dell'oppressione delle donne è comune a tutte le religioni monoteiste. Ho visto che mi sono sempre dimenticato di segnalare dei film simpatici. C'è un film che io non ho visto e che registrerò. Però, effettivamente, non mi ricordo più il titolo e neanche, comunque non è caso, sono reti nazionali e c'è circa l'una di notte ed è un film egiziano ed è la storia fra Averroè e i fondamentalisti. Adesso, purtroppo, io non mi ricordo più, so che lo fanno sabato notte a luna. Datevi un'occhiata sui vari giornalini dei film. È un film egiziano di alcuni anni fa. Non l'ho visto, ma lo registrerò. Ed è la storia fra Averroè che è stato ai suoi tempi uno dei più grossi filosofi che noi conosciamo. Fu quello anche che ha contribuito proprio alla variazione all'uscita del Medioevo proprio portando quello che era l'illuminismo dell'Islam trasferendolo che poi è diventato l'illuminismo occidentale con tutta una serie di trasformazioni contro i fondamentalisti di allora. Credo fosse di Gali o di roba di questo genere. Date un'occhiata se lo trovate. Io vi do questa indicazione. So che è sabato notte a luna. È un film egiziano. Provate a vedere. Io lo registrerò, me lo guarderò. Però, insomma, volevo segnalarlo. questo qua è finito che in ebraico significa sacro ed è appunto la denuncia del pericolo integralista che esiste anche all'interno della religione ebraica. Cioè, attorno a tutte le religioni hanno sempre un riferimento che hanno un riferimento bonotista sono sempre integraliste e tendono sempre a dominare. E poi, logicamente, il concetto è sempre quello dello sfruttamento. Parlavamo appunto di Israele. E allora, vediamo cosa succede. La piccola notizia. I migrati ridotti alla fame mangiano fauna selvatica. È stato risolto in Israele il mistero della scomparsa di intere specie nelle zone dove vivivano i operai tailandesi. Non so se questo lo sapevi. No, ecco. Praticamente, sai, l'economia, il Dio unico dell'economia in Israele esiste questa gente che ha livello di povertà che è costretta pur di campare di andare a caccia di tutte le specie selvatiche che possono esistere pur di avere un po' di carne. Logicamente, questo sfruttamento non pensate che sia dovuto a qualche situazione. È schiavismo. È schiavismo fatto della mentalità dell'illusione. E io non so se chi si occupa di chi fa il verde si preoccupa più della fama selvatica o degli operai tailandesi che muoiono di fame. Forse faranno delle leggi per proteggere la fama selvatica dagli operai tailandesi. Esatto. E magari diminuiranno lo stipendio perché devono ripristinare la fama selvatica. Ecco, e io non so quale sia l'intervento migliore rispetto a questa condizione. In effetti la natura dice l'essere umano deve togliersi dalla posizione in ginocchio in cui il dio monoteista lo mette perché in questo modo si può salvare la natura. Tanto più l'essere umano è in ginocchio tanto più è sottomesso tanto più la natura sarà saccheggiata. E questo è il messaggio dell'anticristo tanto per essere chiaro. infatti questo appunto l'ho voluto citare appunto perché dimostra un attimino cosa significa quando si va a impostare su principi monoteisti anche l'economia nel senso che lo sfruttamento diventa la regola e la base e di conseguenza si farà tutto pur di ottenere un profitto perché il profitto rende benevoli davanti a Dio logicamente sai se in Italia fosse possibile lo farebbero anche in Italia perché sicuramente quelli che sfrutterebbero darebbero l'otto per mila alla chiesa cattolica sicuramente cioè in effetti riflettete un attimino io vi ho già detto un paio di volte ho detto preghi volte nel senso che fra la vita e l'orrore cioè quello che impedisce all'orrore di invadere la vita siamo rimasti io, Francesco e pochi altri e purtroppo è così cioè è così nel senso che c'è una non attenzione rispetto a tutte le cose che ci stanno accadendo attorno cioè piccole cose in realtà sono grandi segnali dell'orrore che sta riavanzando sappiamo che esiste anche molta vita che si sta che sta incubando che sta germinando che sta germogliando però fra questo fra l'orrore che sta avanzando e la vita che tenta di germinare siamo rimasti io, Francesco e pochi altri perché questo perché siamo attenti a tutto quello che ci sta succedendo attorno cioè a noi non ci sta bene di far finta di non vedere Hitler in birreria così non ci sta bene di far finta che in Ruanda non è successo niente che l'otto per mille sia solo pochi soldi che un'azione lo schiaffo il bambino o la famiglia dei ruoli sia soltanto un'idea noi sappiamo che queste cose sono orribili e continuiamo ad indicarle perché da queste cose nascerà l'orrore che va a invadere il sistema sociale per cui quando vi diciamo che noi pagani e tutti gli altri hanno venduto al culo cioè tutti si sono ritirati partiti politici comunisti rivoluzionari destra sinistra populisti operaisti sindacalisti tutti si sono ritirati e tutti hanno perso l'attenzione rispetto a queste cose basta vedere il concerto dei sindacati a Roma l'hanno venduto al giubileo i sindacati portavano in piazza 600.000 persone al giubileo a quel concerto al giubileo sono andate 200.000 cioè hanno venduto anche se stessi al cattolicesimo e hanno venduto se stessi all'orrore alla morte alla distruzione voglio ripetere fra l'orrore e la vita la barriera la stiamo tenendo io e Francesco affinché l'orrore non dilaghi non c'è molte altre persone in giro non ce ne sono molte altre come pure Francesco ecco eroi appunto tanto il ricorso del carnevale del giubileo fallimentare ci sono anche gli dei però che ci sorregano un tanto diamo un'altra dimensione del discorso appunto della dimensione fallimentare del giubileo ma c'è stato appunto una delle solite carnevalate quella delle consacrazioni di qualche nuovo santo di qualche nuovo beato allora non molti giorni fa quella maschera bianca che è il Vaticano hanno beatificato scientificato poi insomma sono sempre criminali cristiani in questo secondo hanno il culto di una veggente polacca benissimo pochi giornali hanno dato un dato molto interessante il Vaticano ufficializza il culto della veggente polacca proibito dalla comunicazione della fede nel 1958 cioè questo papa ha reso beato o santo adesso non so cosa si è fatti loro comunque ha dato importanza venerario quello che può essere a una persona che nel 1958 la congregazione per la dottrina della fede aveva messo l'inquisizione ma scusa anche Giovanna d'Arco prima l'hanno bruciato e poi l'ha fatta santa vabbè d'accordo però questo qua è successo nel 1958 non è successo 600 anni fa 400 anni fa quello che voglio dire qualcuno ci viene a raccontare la storia che la chiede la cattolica chiede scusa sì ma anche Stefani ce l'hanno fatto santo nonostante i campi di sterminio in Croazia dai siamo seri in fondo il santo che cos'è non è altro che la vittoria del Vaticano cioè del cattolicesimo sulla vita faranno santa la macellaia dell'India perché perché comprava e vendeva bambini non per le cosiddette quello che venderanno ma perché lei comprando e vendendo bambini ha costretto milioni di bambini ad essere battezzati li ha costretti in ginocchio questa è stata la gloria della chiesa hanno fatto santi 50 personaggi in Vietnam che tentavano di evangelizzare i buddhisti perché perché hanno messo in ginocchio migliaia di bambini cioè il concetto è questo della santificazione sì ma vedi io voglio appunto anche proseguire su un altro discorso noi sappiamo benissimo che tutte le religioni monoteiste pur di avere il dominio il controllo di avere le grezze hanno degli ottimi salti in banchi cioè nel senso che sono capaci di fare qualsiasi astrosità dal punto di vista del concetto della teologia del riferimento culturale pur di avere il grezze dentro dentro l'ovile e allora pensate 1958 proibiscono un culto nei 2000 42 anni dopo questo culto fa bene perché tiene dentro le pecore e lo vanno a riabilitare ma voi pensate che voi mi viete a raccontare molti cattolci mi hanno raccontato ma il papa ha chiesto scusa scusa se nel 58 viete un culto e dopo 42 anni lo ripristini quanto tempo ci vuole per dire ci siamo sbagliati nel pensare di farvi credere che chiedevamo scusa la chiesa cattolica non l'ha mai sbagliato e secondo le sacre scritture non sbaglierà mai esatto ma questo qua dimostra quanto sia credibile noi l'abbiamo sempre detto il cristianesimo è una miseria è uno squallore è un orrore e questo lo ripeteremo sempre e questo qua faranno qualsiasi cosa vi racconteranno qualsiasi cosa vi prometteranno qualsiasi cosa d'attorno mi sa di promettere la vita eterna e c'è chi si crede alla vita eterna soltanto perché ti fai fregare di essere cristiano un leggende che è stato messo sotto processo perché lui vedeva la madonna e ha detto che spunteranno in fiori naturalmente qualcuno dall'albero naturalmente qualcuno l'ha denunciato per abuso la credibilità popolare e lui davanti al giudice ha detto ma sì ma anche al Papa crede in Dio e voi non lo processate giustamente è stato assolto sembra rifatti mi sembra corretto anche di promettere la vita eterna lui prometteva in fondo solo i fiori che sbocciassero insomma era più più materiale cioè più logico quasi quasi era anche più facile che succedesse esatto esatto sì ma faranno qualsiasi cosa prometteranno qualsiasi cosa pur che voi rinunciate a essere voi stessi nel senso che la loro volontà è questa nel senso saranno disposti a qualsiasi conciliazione dal punto di vista teorico dal punto di vista dottrinale saranno capaci di diventarsi qualsiasi cosa dal punto di vista del dialogo intercumenico interfedetta i fedeli saranno capaci di modificare la Bibbia come vorranno saranno capaci di dare delle interpretazioni incredibili fantastiche faranno gli effetti speciali sulla Bibbia l'importante non mi frega tanto di quello che è scritto l'importante è sempre il dominio il grece e che le persone rinunciano a cercare con la loro testa poi fanno i film facendo vedere che bravo che è il loro Gesù dimenticandosi che si chiama finzione si chiama finzione e in realtà è misero assassino miserabile assassino va bene si ma infatti poi vedi è classico loro possono inventarsi qualsiasi cosa quando ormai la cosa non è più sostenibile sono capaci benissimo di modificarli ammette che hanno falsificato si ma infatti si beh sai erano i tempi erano le condizioni non era vero che il sole girava attorno alla terra ma sai erano i tempi altri tempi si altri tempi un bucciacchiato vabbè ma cosa vuoi che sia gli abbiamo fatto un severo interrogatorio che poi significava tortura ma d'altronde dai cosa vuoi che sia i tempi erano così i tempi erano così per loro per loro non erano così che per gli altri perché infatti il suo gioco astuto che fanno loro dicono fa ma d'altronde era un comportamento tipico di quei tempi esatto ma io voglio ma solo loro però era il loro comportamento loro l'arroganza vuole dire che il loro comportamento era il comportamento di tutti perché ad esempio e noi lo ripeteremo sempre le streghe non avevano bisogno di andare alla caccia del prete ah un cristiano non so un cristiano da destra mi ha mandato in diritto del sito dicendo se poteva chiacchierare con me o discutere con me su cose su cose religiose anche se contrario naturalmente non lì dirò di rivolgersi a qualche strega bruciata se lei è d'accordo sta bello sì ma questo è classico nel senso che loro hanno sempre poi la necessità di salvare gli altri o di rompere le scatole agli altri e di fatti poi sono disposti a qualsiasi falsificazione e io appunto voglio prendere ad esempio due comportamenti che denotano un attimino la situazione allora l'encecopatia britannica chiude una carriera di secoli il marte che sconfisse il drago non aveva mai lasciato l'oriente inglesi orfani il patrono San Giorgio non mi si è mai piedi sull'isola sì ma sta storia anche di sto Giorgio in realtà non è mai esistito esatto e hanno dovuto cancellarlo dal calendario perché chiaramente come Gennaro non è mai esistito no? il problema è che lo usavano a simbolo di non so quante cose per cui sono rimasti orfani orfani di quello che avevano sì ma allora ricolleghiamo le cose inventano appunto un santo utilizzano un santo lo portano avanti lo spingono lo sostengono la gente diventa devota la gente si sottomette la gente viene fregata e rinuncia con un discorso puramente fittizio irreale prendiamo un altro dato che è ben più significativo è ben più corrente è ben più attuale ad esempio prendo ad esempio dal settimanale avvenimenti che ne dico là oggi che c'è un articolo appunto sulle stanze segrete del museo arqueologico di Napoli sono state riaperte le stanze segrete del museo arqueologico di Napoli quelle che hanno state addirittura murate perché considerate oscene uno specchio nascosto che ci mostra quanto si sono cambiati in tema di sesso dal drammatico giorno dell'agosto del 79 d.C. quando la lava di Vesuvio seppelli Pompei di Arcolano ecco pensate che di fronte a una manifestazione di una cultura che trova normale certi comportamenti arrivano al punto di considerarlo museo segreto di chiuderlo di murarlo e questo vomito che ha fatto il Vesuvio quella volta è stata la più grande sfiga che hanno avuto i cristiani perché è vero che ha massacrato una popolazione e ha fatto quello che ha fatto il vulcano non è responsabile però se uno va a costruirsi a casa sotto il vulcano ha già fatto i suoi il problema è che ha bloccato un'intera civiltà cioè ha bloccato una giornata di vita quando adesso ci sono i mezzi per eliminare questo si sta scoprendo com'era la vita di allora cioè si sta scoprendo che esisteva la medicina che esistevano le termine curative che esistevano gli ospedali che dopo il vulcano l'imperatore ha fatto i soccorsi ai sopravvissuti si sta scoprendo che c'era una struttura sociale si sta scoprendo che c'era la ginecologia che c'era la medicina che c'era la chirurgia che c'era l'oculistica che c'erano i dentisti si sta scoprendo che gli schiavi erano stipendiati perché c'erano cose di stipendio che pertanto il termine schiavo sarà molto relativo si sta scoprendo che la vita godereccia il godere la vita era una regola per tutti non semplicemente per chi se lo poteva permettere è vietata agli altri si sta scoprendo che la gente si lavava tutti i giorni o un paio di volte al giorno comunque era pulita si sta scoprendo che c'era il piacere di vivere e questa è la sfiga di Cristian che loro hanno detto è come gli altri pensa al faraone che metteva le persone in ginocchio tutti adorare c'erano i sistemi i sistemi di vita in Egitto ma rispetto al Medioevo erano sfavillanti che non si diffuse i suoi casini i suoi peri i suoi problemi e la merda da cavar via ma erano sfavillanti rispetto al Medioevo e appunto a Napoli si sta a Napoli a Ercolano si sta scoprendo che in fondo agli antichi piaceva vivere ma tutti vivevano tutti vivevano bene chiaramente il più ricco viveva forse meglio del più povero indubbiamente ma c'era il benessere il piacere della vita per tutti si e soprattutto c'era la necessità anche di raffigurare di rappresentarla cioè nel senso perché era divino il piacere è divino ma difatti appunto è proprio classico di tutti quanti monoteisti che tendono sempre a nascondere le cose difatti sai ogni monoteismo tende sempre allo squallore al grigiole dell'esistenza nel senso che non si penserà mai ad esempio alla bellezza dell'arte non si penserà mai alla città impostata in una certa maniera perché d'altronde tutto deve essere legato all'aldilà tutto deve essere legato a un punto in cui sarà un dio a decidere invece nell'antichità c'era proprio il concetto che la propria vita andava vissuta al meglio cioè nelle condizioni migliori e queste condizioni migliori devono essere di tutta la popolazione non solo di una minoranza esistevano generalmente le differenze ed era naturale che esistevano le differenze però si rendeva conto che soltanto con una partecipazione collettiva di tutti ha le stesse possibilità c'era la possibilità di migliorare la vita e tenetevi duri perché è stata scoperta in una villa la biblioteca latina secondo il costume di quel tempo la biblioteca latina stava da un lato della stanza la biblioteca greca stava dall'altro lato della stanza e si è cominciato a srotolare quei rotoli che purtroppo sono inceneriti però con le tecniche moderne qualcosa si riesce ancora a leggere per cui teniamoci un pochino duri credo che se si scoprirà la biblioteca greca sarà la più grande scoperta del millennio forse neanche del secolo dal punto di vista archeologico per cui teniamoci duri teniamoci duri Francesco diamo via le telefonate vi ricordo che il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838 pronto? pronto? si? si ciao sono Marco ciao dimmi a proposito di pericolosità della chiesa o dell'otto per mille eccetera a Roma ho sentito ci sono delle io non lo sapevo ma adesso che lo so mi rode dentro ci sono le antenne della radio vaticana che sparano fuori padre nostro e le ave marie a potenze superiori pari quasi al doppio del limite previsto dalla legge no? volevo fare una domanda a voi altri pensano che arrivino prima al padre eterno queste preghiere o quanti ancora Isacco vogliono sull'altare del sacrificio di questo Dio che non è mai perché qualcuno ci lascerà le penne no? vivendo in quei posti sì o no perché ho sentito parlare di leucemie di bambini che sono già malati e addirittura si sta formando un comitato ma non so che fine farà questo comitato che andrà a protestare per questo e l'altro ieri sera hanno fatto vedere addirittura una mamma che in giardino riprendeva il figlio in giardino o in casa adesso non ricordo con la telecamera che aveva e a un certo punto quando sono andati a vedere il filmato registrato non si sentiva più la voce del bambino ma si sentiva la trasmissione della radio vaticana si era addirittura ecco là poi nelle case basta alzare il citofono che ti puoi ascoltare ancora neanche prendere la radio basta alzare il citofono ecco volevo sapere i nomi di che cosa o di quale non so mistero loro si permettono di sparare fuori insomma non rispettare la legge e volevo sapere se il loro Dio era d'accordo voi che siete insomma della gente abbastanza preparata che conoscete l'idea meglio di me ditemi se il loro Dio è d'accordo con questo ciao 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 naturalmente Marco io lo giro a loro questo nel senso che non sarò certo io a parlare per il loro Dio pronto buonasera io sono Luigi si non riesco a capire diverse robe per esempio uno che ha da fare come si potrebbe dire dei seguaci o eh non lo so dici uno che ha da fare dei seguaci o comunque mettiamo uno che abbia delle idee valide che gliene frega delle idee degli altri proponga le sue senza essere anti e nella misura in cui andranno avanti le sue andranno indietro quelle di quell'altri sì o no a proposito di cosa no perché per esempio voi siete sempre contro contro la chiesa cattolica noi descriviamo il male per descrivere il male bisogna ricorrere a questo ma mi pare che sia in 5 o 6 le chiese che prendano l'otto per mille sì ma a noi interessa relativamente quando finisce le chiese c'è lo stato che prende l'otto per mille speriamo che lo prenda lo stato noi facciamo in modo che lo prenda lo stato è lo stato che fa con quell'otto per mille se un partito non va bene un altro partito prenderà il potere non c'è una verità perché perché bisogna perché se lo prende lo stato bisogna oltre a dire che fa di male la chiesa cattolica con quell'altro otto per mille bisogna dire che cosa fa di bene lo stato con quell'otto per mille noi ci occupiamo di religione cioè quell'otto per mille qualcuno lo prende lo stato lo stato lo stato lo utilizza per recupero dei beni culturali l'otto per mille ma intanto quell'altre 5 chiese fanno di meglio della chiesa ma infatti noi diciamo di darlo allo stato di non darlo a nessuna chiesa neanche ai buddhisti noi diciamo di non darlo a nessuna chiesa sì vabbè ma comunque voi avete criticato solo la chiesa cattolica sì e continueremo a criticare solo la chiesa cattolica ecco allora qui siamo a posto si è accertato un tanto questo vabbè che di quell'atrio non ve ne frega nulla certo allora intanto c'è questo poi poi ce n'è un'altra quella di terremoto è vero che che si scopre tante robe con quella giornata di terremoto anche se a Tarquinia c'era delle stanze a meno da quello che mi ricordo io che era solo per adulti è vero è vero sì sì agli etruschi erano bravissimi ma c'è delle stanze nel museo solo per adulti esatto ma lasciamo stare questa parentesi di terremoto ora la domanda più importante non è come vivevano ma perché non l'hanno ricostruita ricostruita perché con tutti gli affari che poteva fare l'imperatore che dava le sovvenzioni che vede voi sì sì com'è che non la ricostruirono perché non era conveniente fare nello stesso posto si faceva in un altro eh no eh no io è coresta la faccenda perché in altri tempi invece era era stata ricostruita la stessa non era il primo terremoto era era stata ricostruita e quindi molto probabilmente la situazione strutturale dell'economia di quei tempi non portava a far sì che c'erano diciamo così le finanze economiche da poterla ricostruire può essere benissimo e quindi la Chiesa Cattolica in pratica si innesta ma dopo su un processo di disfacimento di uno Stato di quel genere questo è vero solo in minima parte che non era un disfacimento di quel tipo è un altro tipo di disfacimento io dico io dico quello che dite voi e dico quello che dico io purtroppo dunque che la Chiesa Cattolica affermi che lei si è inserita in uno Stato romano in disfacimento lei sì questo lo dice ma non dimenticarti che i vandali a Larico e tutti gli altri popoli che stavano arrivando quasi tutti erano tutti cristiani i barbari che arrivavano erano cristiani spesso ariani ma cristiani per cui tutto quello che era il disfacimento era il disfacimento dovuto dal cristianesimo tanto per essere chiari è il cristianesimo che ha organizzato la distruzione sistematica dell'impero romano non che non sarebbe comunque andato distrutto per altre condizioni e altre cause ma il cattolicesimo cristianesimo ha organizzato la distruzione sistematica dell'impero e allora gli fa un'altra domanda siccome lei dice che i soldi dell'otto per mille la chiesa cattolica nadò fra una parte per costringere ancora come ha detto per sottomettere sì 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 per cooperare il bestiamo umano per controllare appunto per controllare ma controllare in funzione di che? del proprio dominio del proprio il dominio suo? sì eh ma a me risurta che il capitalismo sia anche dove non c'è la chiesa cattolica questo è un altro discorso ancora che oltre bisogna dire il capitalismo dove ha preso il riferimento senti 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 qua allora attenzione attenzione ogni cosa che qui esiste è sempre una derivazione del cattolicesimo sempre anche un respiro anche un anarchico è sempre un cristiano cioè un anarchico non è che non sia cristiano che poi neghi Dio neghi l'esistenza di un paradiso ma i suoi concetti comportamentali il suo modo di valutare la vita è sempre cristiano quello che noi dobbiamo andare è fin dal fuori ho capito cioè anche un altro che ruba è sempre colpa il papa certo certo boh siamo a posto siamo a posto ancora in questa maniera va bene va bene e uno ha sempre ragione ok ciao 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 va bene pronto ciao ciao dimmi ciao 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 anche a te Francesco allora mi avevo fatto un attimino piccolo elenco degli attivi comunque il sequoia che è un sostantivo dai 6-7-8 mila anni se non erro la sua vita ecco io penso il sequoia con molta umiltà e per la sua grandezza diciamo del sequoia ho un'adorazione per le piante esattamente di una certezza per contro loro ti danno quelli vestiti di nero ti danno tristezza balinconia nostalgia miseria ignoranza sottomissione prostrazione umiliazione e per far questo vogliono anche essere pagati certo paura creano paura la paura della paura inspiegabile in un tempo razionale e incredibile per conto mio quindi allucinazione e basta quindi sono questi i roghi moderni li ho intitolati così vi saluto ciao anche anche Kung ha detto questo pronto si ciao salve con cittadino sono Marco ciao 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 senti voglio che mi spiegassi la figura di padre Alex Danotelli ex direttore di Nigrizia chi 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 che lavora in Kenya fa il missionario ma uguale io non seguo queste persone mi spieghi io non seguo molto queste persone perché perché queste persone qua dopo aver diffuso l'AIDS in tutta l'Africa gli si fa bei con la miseria che loro stessi chiedono e continuano a costruire non voglio fare l'avvocato d'ufficio a questa persona voglio sapere perché se fa tanto positiva a questa persona qua anche Francesco penso che sia al corrente di questo no cioè Yugo ha fatto un'opera dice che multinazionali se Dio soffocare il paese tra il suo mondo se Dio mai anche tutti con chi so se chi ha esatto e loro hanno preparato il terreno perché ciò avvenisse e continuano a prepararlo e loro preparano il terreno perché ciò avvenga e multinazionali non fanno altro che inserirsi su quello che è il lavoro cristiano sono cristiane se stesse e fanno parte tutta la stessa strategia di distruzione umana di cui il cristianesimo non è altro che la strategia complessiva sì sì perché tutti dicono ma c'è sempre quel prete che si salva c'è sempre fatto quel convegno a Firenze parlavano del debito estero il paese del terzo mondo ha detto che dobbiamo far sparire tutte le multinazionali in questo pianeta rimarrebbe solo la chiesa come l'unica multinazionale della carità sì non è vero è vero sì quindi pensa se lasciamo spazio a queste persone qua cosa farebbe al resto dell'umanità sì sì non sarebbe non solo i paesi più poveri ma anche a noi cioè quello che ci manderebbero a loro quello che non si riesce a capire è questo è che sì d'accordo ciao ciao io voglio dire solo questo se le multinazionali e se il capitalismo rampante il capitalismo ha sempre bisogno anche di chi compra le merci cioè ha bisogno di costruire le condizioni affinché le merci vengono comprate per cui il peggiore dei capitalismi è sempre migliore del clericalismo perché il clericalismo la chiesa cattolica ha un solo fine ed è quello la costruzione della miseria costruire la miseria per vendere carità il capitalismo invece ha anche bisogno di chi vada a comprare le merci cioè ha bisogno di dare uno stipendio perché i stipendiati comprano le merci che lui vende e così si costruisce la ricchezza pertanto il capitalismo è comunque un passo avanti rispetto al cattolicesimo nonostante questo il capitalismo ha bisogno del cattolicesimo perché è migliorativo rispetto a una situazione che può peggiorare allora meglio le multinazionali in India che fanno buopale con tutta la merda che possono fare che non la macellaia dell'India Teresa e Calcutta che deve fare milioni di morti solo per il gusto di fare milioni di morti e ad avere il potere la soddisfazione di fare milioni di morti sì no ma io il comportamento che poi esiste non diciamo preti che sembrano perché nessun prete è buono che sembrano migliori degli altri è anche una strategia di domino cioè nel senso che si cerca alla fine di dire è impossibile opporci a noi perché noi ci diamo la possibilità di rimanere legati faccio un esempio di attualità sono stati cinque e cinque anni della scoperta del Brasile e subito i cardinali e i vescovi brasiliani a festeggiare la scoperta perché è servita ha detto scoprire il Brasile e anche per dare il via all'evangelizzazione del Brasile e anche per portare la parola della salvezza al Brasile benissimo c'è stato qualche cattolico che ha detto fa no perché bisogna essere un attimino più riflessivi non avere festeggiato in questa maniera perché sono state delle violenze verso gli indios benissimo sia i cardinali sia che questi cattolici che dicevano che sono state delle violenze verso gli indios alla fine erano fedeli al Papa erano fedeli alla chiesa ma la cosa peggiore erano fedeli al Dio creatore di conseguenza il loro comportamento è come il cane che corre a destra per spingere le pecole e il cane che corre a sinistra per spingere le pecole dentro l'ovile a me non importa che il cane corre a destra o corre a sinistra a me interessa che alla fine tutti quanti i cani si può essere il cane che fa male sul lavoro ma alla fine dà un contributo agli altri per mantenere le persone dentro il grece e poi il pastore li può macellare di conseguenza a me non mi frega niente che ci sia un prete che si dice è tutto da vedere che si comporti in una certa maniera questo prete non fa nulla per rimuovere i comportamenti della stitura in cui fa parte per ricreare la povertà e anzi lui diventa santo perché la chiesa cattolica ha creato la povertà e lui può giustificare se stesso la propria missione e la chiesa della cattolica con l'aiuto che lui dà a queste persone povere buono chiediamo qui la trasmissione questa trasmissione è magia stragoneria paganesimo sono le 16.30 Mario non si vede andiamo avanti con un po' di pubblicità intanto poi metteremo su qualcosa vedremo un attimo cosa faremo vi ricordo che io sono Claudio Simeoni il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Otto Marghera l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Sud di Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza Francesco se hai da dire ancora una parola io ho la pubblicità pronta per partire ciao a tutti vi ricordo alle ore 19 vi parlerò contro la reincarnazione ne approfittiamo per pochi secondi noi appunto abbiamo parlato sull'altra trasmissione della festa di Beltane in settimana ho avuto una documentazione davvero in cui già nel 94 la proloco del posto organizza per il periodo di agosto dei fuochi dei 13 comuni sui monti della Lissinia e questo era un antico rituale delle popolazioni del luogo ripreso dal 94 in poi e a quanto so probabilmente lo fanno non con finalità religiose verrà riproposto anche quest'anno perciò come vedete bene o male dando una parvenza pagana dando un revival di tipo turistico ritualità di tipo non cristiano stanno riaffiorando in tutti quanti i momenti nella nostra regione e non solo nella nostra regione per fortuna voglio ricordare un'altra cosa è uscito micromega è un volume 8 questo avanza interessante questo numero perché parla di filosofia e religione e c'è anche un intervento di vari autori purtroppo la maggioranza sono sempre di area cattolica però c'è un intervento mazzabello di Umberto Calimberti che ha il titolo che fa nessun dio ci può salvare ed è appunto una polemica fatta dal punto di vista della tecnologia al discorso cristiano per chi invece vuole storie un po' più forti è uscito negli Stati Uniti un bel libretto ed è la storia dei preti assassini beh casomai questo daremo un'informazione migliore e c'è una scena molto bella in cui c'è un prete che ammazza due parrocchiani e poi molto commosso ne fa il sermone funerario fisicamente un po' sacerdote insomma buono ciao a tutti appuntamento alle ore 19 con contro la reincarnazione naturalmente è il nostro punto di vista ciao a tutti e a risentirci ciao